Buongiorno a tutti, stiamo andando alla conferenza stampa che segnerà il vero inizio della campagna elettorale in Italia per le europee di alternativa popolare. Presenteremo le liste nelle cinque circoscrizioni. Noi siamo risonerati dalla raccolta perché facciamo parte del Partito Popolare Europeo, dalla raccolta firme. Io girerò in tutta Italia perché le televisioni ci hanno tolto la parola, non ci fanno parlare, non ci chiedono niente, non ci dicono nulla, nessuno ci ha mai nemmeno sondato e questa è una cosa molto bella, molto bella perché noi i sondaggi ce l'abbiamo e secondo me qualcuno piangerà e non piangeranno soltanto al centro, piangeranno anche a destra e un po' anche a sinistra. Faremo le cose del modo giusto e porteremo in Europa e l'Italia. Ciao a tutti.